Nella smedida cornice di Palazzo Paterno a Caserta si è tenuto il convegno dal titolo La ventilazione polmonare nella gestione del paziente critico, dalle esigenze cliniche ai requisiti tecnologici e organizzativi. Iniziativa questa organizzata dal gruppo Regione Campania dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici. L'evento si è aperto con la presentazione dei lavori da parte dei referenti regionali dell'AIC, gli ingegneri Nicola Tufarelli e Pasquale Garofalo e il responsabile investimenti tecnologici dell'ASL di Caserta, l'ingegnere Tommaso Cercello. Questo convegno è stato realizzato, uno dei argomenti del convegno di questo qui è sulla ventilazione polmonare. Un termine che durante la pandemia è passato tanto. Noi come Associazione Italiana Ingegneri Clinici, in particolare come Gruppo Campana, abbiamo organizzato vari eventi. L'associazione è nata nell'anni 90 e riunisce gli ingegneri impegnati in sanità. Negli anni 90 era prevalentemente cristallizzata sull'Emilia Romagna, che era una delle regioni che aveva più servizi e poi si è diffusa in tutta Italia. Adesso siamo ai convegni circa 2.000 iscritti, quindi abbiamo un bel numero di partecipanti. Qui al convegno di Caserta abbiamo 150 iscritti al nostro convegno e il nostro intento, Gruppo Campano, è quello di portare la formazione ai colleghi giovani e a quelli meno giovani come me. Noi come referenti regionali in Campania da quando abbiamo cominciato il nostro mandato ci siamo impegnati ovviamente in prima persona affinché potessimo realizzare incontri che abbiano come scopo principale quello della formazione. Quello di oggi in effetti è l'ultimo e poi ce ne saranno ovviamente altri post convegno, l'ultimo di questo miniciclo che ci ha visti impegnati su tutte le province campane, quindi Salerno, Avellino, Napoli e oggi siamo qui a Caserta. Io vi faccio una sintesi di quello che abbiamo ottenuto fino ad oggi. Con gli eventi che abbiamo fatto oggi siamo riusciti a coinvolgere circa 32 editte coinvolte, oltre al coinvolgimento quasi della metà degli iscritti campani, sia per ciò che concerne il supporto proprio nella realizzazione di questi incontri, ma anche per ciò che concerne proprio la partecipazione attiva, quindi tra moderazioni e interventi. Questo per me è un aspetto e vengo a sottolineare che noi cerchiamo di far partecipare tutti, cioè per noi il coinvolgimento è alla base e permette quindi a tutti di essere attivi e soprattutto rendersi proprio partecipi e vivono praticamente l'attività dell'associazione. Per noi questo è un punto fondamentale da diciamo da sottolineare. Ovviamente noi abbiamo altri obiettivi, faremo ulteriori incontri post-convegno che ovviamente sono già in fase di programmazione e per noi questo è veramente un modivanto possiamo dire. Tra l'altro in Italia probabilmente siamo gli unici ad aver fatto un ciclo, quindi una programmazione bella, definita e dettagliata di tutti questi incontri che in effetti oggi questo diciamo si conclude con questo di Caserta. Sì, una grande soddisfazione come coordinatore del Comitato Organizzatore Scientifico, siamo onorati di aver ospitato questo evento a Caserta e dobbiamo dire di essere veramente entusiasti della risposta che abbiamo avuto sia in termini di iscrizione, sia di adesione di sponsor, città sponsor che ci hanno sostenuto, che di enti patrocinanti che vede coinvolte tutte le maggiori istituzioni del territorio. La ventilazione polmonare oggi è una tematica molto sentita soprattutto dopo l'esperienza del Covid ed è importante mettere ancora più risalto il ruolo che gli ingegneri clinici hanno avuto nella gestione di queste tecnologie e nel supportare il sistema sanitario nazionale in questi anni. Dopo Caserta che tappa farà l'associazione? A maggio avremo il convegno nazionale a Firenze dove è un evento strutturato che viene ripetuto ogni anno con enormi adesioni e sarà sicuramente l'occasione per un momento di riflessione, di confronto e di approfondimento di tutta la nostra categoria. Ingegneri Guizzetti, quanto è importante la formazione, poi soprattutto in questo settore degli ingegneri clinici? La formazione è fondamentale perché noi viviamo di evoluzione tecnologica e quindi per riuscire a seguire l'evoluzione tecnologica o per avere un programma di formazione continuo, continuativo, non solo sulle tecnologie ma anche sull'organizzazione e sulle strategie per valutare e gestire la manutenzione. L'associazione degli ingegneri clinici crede molto alla formazione, ha creato un comitato apposta che io coordino, che si occupa sia di organizzare direttamente degli eventi a livello nazionale, quali corsi del convegno nazionale, piuttosto che la summer school e dell'AIC e di stimolare le sezioni regionali nell'organizzare eventi come quello di oggi a Caserta, da questo punto di vista la sezione campana è sempre stata molto attiva e quindi noi siamo qui anche a dare un segno di presenza e di supporto a questo tipo di iniziative. Sono molti gli ingegneri clinici? Gli ingegneri clinici sono molti se rapportati a quelli che erano fino a qualche anno fa, siamo una professione giovane, una professione che di fatto, salvo qualche caso isolato, nasce verso la seconda metà degli anni 90. Abbiamo avuto una diffusione sempre più rapida ed esponenziale, nel senso che dicevo prima nel mio intervento che dieci anni fa si è tenuto il convegno nazionale dell'AIC a Napoli e a quei tempi l'ingegneria clinica in campagna non era sicuramente sviluppata come adesso, ha fatto passi da gigante, quindi diciamo che potremo essere ancora di più ma senz'altro siamo in tanti in questo momento.